Un matrimonio su due termina con il divorzio. Da questo dato è nato il convegno Crisi delle Relazioni Familiari, Soluzioni Conciliative e Giudiziare, organizzato dall'Arcidiocesi di Napoli, dall'Unione Giuristi Cattolici, dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e dal Tribunale Metropolitano. Il dibattito quindi è stata l'occasione per confrontarsi sul tema della crisi del sacramento del matrimonio ed in che modo ciò si ripercuota sulla nostra società. Nel Palazzo Arcivescovile di Napoli è di introdurre i lavori il Vescovo Don Mimmo Battaglia. Subito dopo gli interventi di Padre Luigi Ortaglio, Presidente del Tribunale Ecclesiastico e del Vescovo Ausiliare Don Michele Autuoro. Noi ci troviamo davanti ormai al 50% dei matrimoni che approdano al divorzio. Il 20% dei bambini di oggi nelle nazioni occidentali si trovano a vivere in famiglie in crisi, famiglie monogenitoriali, famiglie che non si poggiano su un legame stabile tra i genitori, famiglie quindi di persone risposate e tutto ciò influisce negativamente sulla crescita, sull'equilibrio dei figli. Papa Francesco vuole che la Chiesa sia prossima e quindi certamente anche le crisi matrimoniali come i divorzi sono sempre ferite, sono ferite che segnano i coniugi ma segnano anche tutta quanta la famiglia. E allora la Chiesa, Papa Francesco ha usato una volta questa espressione, vuole essere ospedale da campo.